Faccio appello al suo spirito di squadra, di aggregazione. Se non c'è coesione, non c'è squadra. E senza squadra si è soli. Ti sei preso la squadra sbagliata. Controllo di polizia. Che fate? Aspetti l'autobus? Puzzi di erba. Ehi, va bene così. Sto filmando, non potete farlo. Smettila. No. Ora sei contenta? È la nostra vita. Tu arrivi ora, ma noi siamo qui da dieci anni. Siamo gli unici che rispettano. Eccoli, eccoli, sono loro, dai! Di che rispetto parli? La gente di qui ha paura di voi. Che succede? Ti hanno rubato un leone? Sì. Impegnati, dobbiamo trovare il leone. Indietro! Indietro! Fermati! Non eviterete la collera della gente. Cazzo! Il problema è che un drone ci ha filmato. Ma che vuoi pensare al drone? C'è un ragazzillo svenuto qui! Possiamo distruggere i poliziotti con quel video. Che problema avete? Qual è il vostro problema? Sono io la legge! Cosa vuoi farmi credere? Che è stato un incidente? I piccoletti non ci mollano da un'ora. Non è colpa vostra. Come al solito, essi avessero ragione a esprimere la rabbia. È l'unico modo per farsi sentire. Stai esagerando! Stai esagerando!